Io non so chi parla perché con me nessuno ha parlato e soprattutto direi che è rispettoso nei confronti di tutti parlare di queste cose dopo ovviamente le europee, perché prima di arrivare a discutere di queste cose bisogna arrivare alla verifica degli eletti europei. Prima di entrare nel toto nomi Luca Zaia vuole avere in mano i risultati definitivi, soltanto dopo si apriranno i tavoli della trattativa innanzitutto politica e non potrebbe essere altrimenti con due assessori di peso in lizza per Bruxelles, il leghista Federico Caner da una parte, la meloniana Elena Donazzan dall'altra. Più volte emissa preferenza, proprio Donazzan è data quasi per certa con un uomo di Fratelli d'Italia pronto a subentrarle in giunta, Radio Palazzo da un testa a testa tra il trevigiano Tommaso Razzolini e il padovano Enoch Soranzo. Un effetto domino si preannuncia anche a Palazzo Ferrofini dove sono diversi consiglieri regionali che corrono per l'Europa, tra i Fratelli d'Italia sono addirittura due, il veronese Daniele Polato, attuale capogruppo, e il veneziano Luca Spavanetto. Ma anche l'opposizione non scherza, nel PD corre per ritornare in Europa il trevigiano Andrea Zanoni, è addirittura capolista nord-est con l'alleanza verdi-sinistra, la vicentina Cristina Guarda, ma la variante europea, chiamiamola così, non riguarda solo gli scranni, pure i temi, su tutti l'autonomia, la discussione sul DDL Calderoli, iniziata la Camera, è già destinata a saltare a dopo il voto. A me non cambia nulla, nel senso che poi ho rispetto dei tempi del Parlamento, il vero tema è affrontare con serietà e quello che si sta facendo a livello nazionale il progetto, dopo di che si tradurrà in legge, quando la vedremo in gazzetta ufficiale, mi incornicerò quella gazzetta ufficiale.